È arrivata la tanto attesa sentenza dell'Alta Corte di Londra sul caso Assange, che però è un po' una mezza sentenza. I giudici hanno preso tempo, ma almeno hanno ritenuto valide alcune delle obiezioni presentate dai legali del giornalista. Quindi cerchiamo di capire che cosa dice questa sentenza e quali scenari si aprono adesso per Julian Assange, ma anche per la libertà di informazione nel mondo occidentale. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 28 marzo 2024 e questa non mi rassegna la stessa stampa commentata di Tra le che cambia. Sigla! Oggi facciamo una puntata più breve del solito e monotematica, perché sono mezzo malato, ma ci tenevo a darvi un aggiornamento importante sul caso Assange. È infatti arrivata la sentenza molto attesa dell'Alta Corte di Londra relativa all'estradizione del giornalista negli Stati Uniti. Era una sentenza, diciamo, moderatamente positiva per Assange. Vi faccio un breve riepilogo delle informazioni, diciamo delle cose che dovete sapere per capire la sentenza, premettendovi un fatto abbastanza importante, ovvero che su questa vicenda qua io mi sento un po' di parte, non riesco ad essere imparziale, quindi ve lo dico, metto le mani avanti. Penso che Assange sia uno dei migliori giornalisti del nostro tempo, dovrebbe stare tranquillo a fare il suo lavoro e non rinchiuso in un carcere. E ve lo premetto perché è possibile che nel raccontare la notizia non sia del tutto super partes, quindi è bene che lo sappiate. Comunque, la situazione al momento è questa. Assange è in carcere a Londra in uno stato di detenzione arbitraria, significa che è in carcere senza che sia al momento formalmente accusato di niente, per lo più è in un carcere di massima sicurezza a Belmarsh, detta la Guantanamo d'Inghilterra, quindi un carcere molto duro. Ci è finito dopo una lunghissima vicenda, che l'ho visto prima rifugiarsi nell'ambasciata ecuadoriana a Londra, per sfuggire a un mandato di arresto internazionale per una strana accusa di stupro arrivata dalla Svezia, poi caduta in prescrizione, poi nel 2019 viene di fatto catturato all'interno dell'ambasciata dell'Equador, dopo che gli è stato revocato lo status di rifugiato, in concomitanza con il cambio di governo in Ecuador, e viene condannato a Londra a 50 settimane di carcere da scontare per l'appunto a Belmarsh, per aver violato nel 2010 i termini della libertà vigilata, quindi una pena che viene considerata, insomma, dalla stampa internazionale abbastanza esagerata rispetto al tipo di reato. Nel frattempo, anzi proprio lo stesso giorno in cui viene incarcerato, il governo americano chiede l'estradizione del giornalista per poterlo processare negli Stati Uniti, perché lì, sì, c'è un'accusa che pende su di lui, anzi, 18 accuse. 18 capi d'accusa, di cui tutti, a parte uno, sono ai sensi dell'Espionage Act, ovvero una legge antispionaggio risalente alla Prima Guerra Mondiale, e l'accusa è dovuta alla pubblicazione da parte di Assange su Wikileaks di una serie di documenti statunitensi militari riservati. Negli Stati Uniti, secondo i legali di Assange, rischierebbe fino a 175 anni di carcere. Da lì inizia il lungo procedimento legato alla richiesta di estradizione, quindi con varie pronunciamenti dei tribunali inglesi, appelli e così via. Nel frattempo, la sua detenzione sarebbe finita da oltre tre anni, perché appunto nel 2019, 50 settimane sono circa un anno di detenzione, ma visto che il giudice teme che Assange possa non presentarsi alle udienze per il processo di estradizione, di fatto lo mantiene in stato di arresto arbitrario, sempre nel carcere peggiore del Regno Unito. Quindi, sottolineo questa informazione, Assange sono tre anni che di fatto è incarcerato in condizioni veramente terribili, senza che sia accusato di niente. Comunque, dopo un lungo procedimento, il 20 aprile 2022, il Tribunale di Londra autorizza formalmente l'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti. A quel punto gli avvocati di Assange presentano vari ricorsi, tutti respinti, quindi cercano di presentare un ultimo appello, sostenendo che l'estradizione sia motivata da questioni politiche, ma il giudice di primo grado nega questa possibilità. Allora, i legali di Assange fanno ricorso presso l'Alta Corte, che appunto, e arriviamo ai giorni, insomma, alla situazione attuale, si esprime, si è espressa questo martedì, e nel verdetto i due giudici di alto livello, Victoria Sharp e Jeremy Johnson, accolgono il ricorso dicendo che gli avvocati di Assange hanno il diritto a presentare quest'ultimo appello contro la sua estradizione. Ripeto il concetto perché è un po' arzigogolato. I giudici dell'Alta Corte di Londra non hanno annullato l'estradizione di Assange, ma hanno concesso ai suoi legali la possibilità di presentare un ultimo appello, con però una postilla non di poco conto, ovvero, visto che il motivo principale per cui viene accettato il ricorso è che gli Stati Uniti non hanno fornito rassicurazioni sufficienti sul fatto che negli Stati Uniti Assange sarà trattato, diciamo, decentemente, passatemi l'approssimazione, e potrà appellarsi al primo emendamento, ovvero quello sulla libertà di stampa, viene data la possibilità alle autorità statunitensi di fornire assicurazioni soddisfacenti in merito. Che vuol dire? Vuol dire che se le autorità americane, se la Corte di Giustizia americana fornirà al Tribunale di Londra queste rassicurazioni e saranno ritenute, appunto, valide entro il 16 aprile, allora l'estradizione di Assange verrà confermata senza possibilità di appello. Se invece non verranno fornite queste rassicurazioni o verranno fornite ma non saranno ritenute, diciamo, sufficientemente valide, ad Assange verrà concesso il permesso di appellarsi. Ad ogni modo, la decisione definitiva sul caso verrà presa il 20 maggio. Di nuovo, non sull'estradizione, ma sulla possibilità di un ulteriore appello. Stiamo sempre parlando di questa cosa qua. Se siete interessati all'analisi della sentenza più nel dettaglio, comunque, vi faccio una sorta di appendice alla fine della puntata. Appendice che è un po' più tecnica, ma secondo me molto interessante, e che prende spunto da un articolo di Patrick Boylan su presenza. La trovate alla fine, così se invece non vi interessa, ascoltate la puntata fino a quel punto, fino allo stacchetto, e poi lasciate perdere. Se no, invece, proseguite. Intanto noi invece andiamo avanti con le reazioni. Già, perché la sentenza dell'alta corte londinese ha suscitato reazioni abbastanza contrastanti. Ad esempio, come riporta un articolo del Corriere della Sera, Stella Morris, moglie di Assange, si è mostrata piuttosto scettica, e se da un lato ha riconosciuto al verdetto il merito di aver certificato come reali la minaccia al diritto della libertà di espressione di Assange, la sua discriminazione in quanto cittadino non americano, e il rischio, non cancellato del tutto, a dispetto delle precedenti mezze garanzie, di una sua ipotetica condanna a morte, dall'altro ha fatto capire che non si fida del via libera condizionato concesso dai giudici britannici e si è detta basita per la possibilità lasciata aperta alle autorità di Washington di rovesciare ancora il verdetto attraverso un pezzo di carta con qualche rassicurazione in più. Il senso è un po' che, diciamo, se anche gli Stati Uniti fornissero queste rassicurazioni, secondo Stella Morris, non sarebbe una garanzia sufficiente, perché poi niente gli impedisce di contraddirsi o di fare il contrario di quello che hanno assicurato. Oltre alla sentenza, continuò a far molto discutere anche la scelta delle autorità americane di fare ricorso a una legge antispionaggio per un caso che non ha a che fare con lo spionaggio, evidentemente, ma ha a che fare con la libertà di informazione. C'è un'intervista molto interessante sul manifesto di qualche settimana fa ad Alan Rusbridger, che è stato direttore del Guardian per 20 anni ed è stato uno dei primi a dare voce ad Assange, di cui vi leggo giusto qualche passaggio. Dice Rusbridger, Beh, penso che sia una cattiva idea usare l'espionaggio act contro qualcuno che sta facendo quello che Julian stava facendo. Non credo che nessuno pensi seriamente che si trattasse di spionaggio. E il pericolo è che se si estrada qualcuno negli Stati Uniti con successo, i giornalisti che al momento non stanno prendendo molto sul serio questo caso, potrebbero ritrovarsi con un brutto precedente. E ancora più avanti, penso che sia una tendenza pericolosa dei governi che usano la segretezza di Stato e la legislazione sullo spionaggio. E il punto di queste leggi è che non c'è difesa, che non si può dire questo è il motivo per cui l'ho fatto, cosa possibile nella maggior parte degli altri crimini. Quindi non è un caso per me che stiano usando quella legge, perché vogliono solo rinchiuderlo e punire altri, dissuadendoli dallo scrivere di ciò che si vuole mantenere segreto. Insomma, il caso Assange continua a far discutere e nel frattempo Assange, e questo è l'aspetto più drammatico, continua a vivere in una condizione disumana, mese dopo mese, anno dopo anno, trascinandosi in una sorta di agonia. Secondo la moglie e i suoi legali, ormai da mesi è a rischio di morte e potrebbe tentare il suicidio. E devo dirvi che personalmente ho paura, molto paura, che la vita di Assange, uomo, sia ormai segnata per sempre. Non so quanta possibilità di recupero ci sia per una persona che vive rinchiusa da 12 anni, di cui 5 in un carcere di massima sicurezza, in condizioni psicofisiche tremende. Perché ho detto di Assange uomo? Perché invece resta un po' separata in questo istante, per quanto sia strano, la vicenda di Assange simbolo. Cioè, forse su quella si può ancora fare qualcosa. Ci vorrebbe certo un plot twist importante, un cambiamento nel finale. Assange andrebbe non solo non estradato, ma scarcerato immediatamente e curato per quanto possibile, e dovrebbe emergere forte il messaggio che un trattamento del genere nei confronti di una persona che non ha commesso alcun crimine, se non quello di mostrare al mondo dei crimini di guerra fatti da altri, non è accettabile. Ecco, se succedesse questo, allora potremmo dire che comunque questa vicenda tremenda e disumana ha avuto un senso. Allora, vi ho promesso un appendice con la sentenza più nel dettaglio ed eccola qua. Appendice che a occhio e croce si trallunga più o meno come il resto della puntata, però vabbè. Come vi dicevo, e come spiega bene Patrick Boylan su presenza, l'Alta Corte di Londra ha concesso a Julian Assange la possibilità di presentare un ulteriore appello alla giustizia britannica contro la sua estradizione negli Stati Uniti. Ma non è neanche detto che sia così, perché, come vi dicevo, i giudici hanno rimandato la loro decisione definitiva al 20 maggio. Cioè, uno, dopo aver studiato le garanzie per i diritti umani di Assange che gli Stati Uniti dovranno fornire entro il 16 aprile, due, dopo aver esaminato le obiezioni all'attendibilità di quelle garanzie che gli avvocati di Assange dovranno presentare entro il 30 aprile, e infine, dopo aver esaminato le critiche a quelle obiezioni che gli Stati Uniti dovranno poi depositare entro il 14 maggio. Quindi, ecco, c'è una sorta di ping pong fra autorità americane e avvocati di Assange al termine del quale l'alta corte si esprimerà in via definitiva. Intanto, comunque, con la loro sentenza di ieri, i giudici hanno eliminato sei delle nove obiezioni all'estradizione formulate dai legali di Assange. Per esempio, ve ne dico solo alcune, quelle più significative, non sarebbe valida secondo i giudici di Londra l'obiezione che l'estradizione è di tipo politico. Considerate che le estradizioni politiche sono proibite proprio dalla Convenzione sull'estradizione fra Stati Uniti e Regno Unito. perché non sarebbe un'estradizione politica? I giudici hanno letto la cosa così, hanno fatto una distinzione fra idee politiche, perché è proibito estradare un individuo per le sue idee politiche, e azioni a sfondo politico, che sarebbero invece sempre suscettibili di estradizione. E quindi, hanno ritenuto che la diffusione degli Afghan Warlogs e dei Guantanamo Files, ovvero i documenti riservati per cui Assange ha accusato, sarebbero state sì azioni politiche, ma non la professione di un'idea o di un'identità politica. In secondo luogo, hanno anche annullato l'obiezione forse più pesante contro la richiesta di estradizione di Assange negli Stati Uniti, ovvero quel presunto complotto, che poi tanto presunto non è, visto che ci sono almeno 30 whistleblower della CIA che hanno testimoniato, dicendo che esisteva realmente, complotto studiato appunto dalla CIA per rapire e o assassinare Assange mentre era rifugiato nell'ambasciata ecuadoriana a Londra. Tutte le convenzioni sulle estradizioni affermano che non si può consegnare un imputato nelle mani di chi ha cercato di ucciderlo in precedenza, ma secondo i giudici l'esistenza di un complotto omicida non sarebbe stata sufficientemente dimostrata. E, fra l'altro, aggiungono anche che se anche fosse vero che gli Stati Uniti hanno complottato per uccidere Assange, quando l'avranno fra le mani dopo l'estradizione non sarà più necessario ucciderlo e quindi non ci sarebbe più questo pericolo esistenziale per Assange perché gli verrebbe volontariamente consegnato. Infine, c'era un'altra obiezione cardine sul piano legale, ovvero il fatto che era venuto a meno la segretezza delle comunicazioni fra l'imputato e i suoi avvocati. Infatti, in un processo in corso in Spagna è emerso che l'agenzia spagnola incaricata di proteggere l'ambasciata dell'Ecuador in realtà stava spiando Julian Assange e registrando i colloqui con i suoi avvocati e trasmetteva quelle registrazioni direttamente alla CIA. In questo caso i giudici britannici hanno affermato che, essendo il processo spagnolo tuttora in corso, non può essere tenuto in considerazione sebbene le prove a favore di questa tesi siano ormai appunto molteplici. Poi, anche altre tre obiezioni sono state di fatto annullate, mentre i giudici hanno dato credito soltanto alle ultime tre delle nove obiezioni iniziali, che sarebbero queste qua. 1. La mancanza di garanzie contro un'eventuale sentenza di pena di morte da parte del Tribunale statunitense che processerebbe Assange dopo la sua estradizione. Infatti, le estradizioni sono proibite se l'imputato rischia la pena di morte nel paese richiedente. 2. La mancanza di garanzie che Assange per difendersi avrà il diritto di invocare il primo emendamento alla Costituzione statunitense, ovvero quello del diritto alla libera espressione, in quanto non è un cittadino americano e quindi non essendo un cittadino americano potrebbe non potersi appellare al primo emendamento e le estradizioni sono proibite anche quando l'imputato rischia di non godere degli stessi diritti dei cittadini del paese richiedente. Infine, punto numero tre, obiezione numero tre, la mancanza di garanzie che Assange non subirà discriminazioni durante il futuro ipotetico processo proprio in quanto non può invocare la cittadinanza americana come protezione. Quindi diciamo una strada di ripetizione della seconda ma in maniera più ampia. Quindi ecco, è su questi tre punti che il Dipartimento di Giustizia americano dovrà fornire sufficienti rassicurazioni a quello inglese, alle autorità inglesi. Quindi in pratica dovranno assicurare che Assange non rischia la pena di morte, che potrà fare ricorso al primo emendamento e che non sarà discriminato in quanto cittadino non americano, che godrà quindi di tutti i diritti di cui godrebbe un cittadino americano. Dopodiché i legali di Assange potranno presentare delle contestazioni e le autorità americane potranno rispondere a queste contestazioni e infine la Corte si esprimerà in via definitiva il 20 di maggio. Se i giudici riterranno le rassicurazioni americane sufficienti, l'estradizione potrebbe avvenire allora immediatamente. Scrive sempre Boylan su presenza che c'è già un aereo della CIA che attende sulla pista di un aeroporto militare vicino a Londra. Tuttavia c'è la possibilità che queste obiezioni non vengano annullate come le altre. Ad esempio come sostiene Halobenson attivista statunitense di Assange Collective le tre rimanenti obiezioni non potranno essere facilmente spazzate via come le altre. Questo perché ci sono già dichiarazioni da parte delle autorità statunitensi secondo le quali Assange non potrà invocare il primo emendamento non essendo cittadino americano in quanto a rischio di pena di morte scrive ancora l'attivista gli avvocati statunitensi hanno già detto durante l'udienza del 21 febbraio che non erano in grado di escludere questa possibilità. Perciò se effettivamente non ci sarà la possibilità da parte delle autorità americane di fornire garanzie su questi tre punti il 20 maggio i giudici dovranno decidere di consentire la riapertura del caso e quindi garantire ad Assange ai suoi legali un ulteriore appello e a quel punto di battere più approfonditamente proprio questi tre punti e se essi continueranno a rimanere in piedi dopo questo ulteriore dibattimento l'estradizione verrà rifiutata e Julian potrà essere scarcerato. Ovviamente staremo a vedere. Bene 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 io direi che noi ci possiamo fermare qua vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di e non mi rassegno sempre a partire dalle auto sulle principali platforme di podcasting nonché sulla pagina dell'assegna stampa e del cambia.org voi mi raccomando state bene fate i bravi e ricordatevi che chi si rassegna è perduto.